Ciao a tutti amici fiosini come state? spero tutto 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 bene oggi abbiamo uno spunto un po' sconfusionato infatti il nostro Monsound sarà a tema confusio con tutti questi colori strani quindi vi auguro un buon relax i turnedare insomma mod依 stupi 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 Sì Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.